buongiorno buongiorno a tutti allora proviamo questo nuovo format oggi andiamo a fare il video nell'appartamento di zona borgodora seguitemi 11 59 12 08 va bene dai andiamo siamo quasi arrivati siamo in zona borgodora eccoci arrivati in borgodora bisogna vedere questo nostro appartamento con l'ascensore terzo piano con l'ascensore quello che vedete le mie spalle e via mammeli e andremo a vedere un appartamento proprio lì le scale ve le evito non sono proprio il massimo però siamo in centro quindi ci può stare ascensore usciamo dall'ascensore e iniziamo scendiamo queste scalette però sono così che trattini e usciamo vediamo e allora eccoci qua sto percorrendo il ballatoio eccoci adesso vi farò vedere nel dettaglio l'appartamento sono venuto per fare la registrazione del video il video che andrà poi sui portali guardiamo ragazzi qua immaginatevelo